Veniamo all'arte, veniamo alla musica, ho il grande piacere di avere con me la voce ufficiale di Radio Bari. Serena Brancale, bentrovata. Eccomi. Allora, devi assolutamente farci ascoltare uno dei tuoi jingle. Io me la sento, tu te la senti? Va bene, sono certa, mi induce a parlare in dizione, cosa che non faccio nel quotidiano, va bene. Però ovviamente i nostri radioascoltatori saranno veramente felici di vederti finalmente dal vivo. Va bene, per ascoltarti basta sintonizzarsi, lo ricordiamo, sulla frequenza 88.8, 88 e 9, oppure via streaming su www.radiobari.net. Quello della radio, io lo metto, è un pretesto per parlare del tuo talento per la musica. Quando hai scoperto che la musica, in particolare il canto, sarebbe diventato il tuo mestiere? Tardi, perché a casa ci sono stati molti input, mia sorella suona i pianoforti, mia madre canta, mia madre dipinge, quindi ho incominciato con l'accademia, poi il conservatorio, continuo comunque a studiare pianoforte, complementare e canto. Quindi ci sono stati tanti input in casa e ora ho deciso di... Quando dici tardi, tardi cioè? Tardi perché, no, perché ho incominciato con la danza, poi col violino, poi pianoforte e quindi poi ho deciso che pianoforte e canto, quindi tardi. Ok, va bene, tardi va bene, però vuol dire che è una scelta consapevole. Nelle favole basta volere qualcosa per ottenerla, nella realtà non è sempre così. Quanto hai dovuto faticare per dimostrare, per essere qualcosa in più di un semplice talento? Ma io nel mio piccolo fatico ancora perché, insomma, mi sto creando, mi sento veramente work in progress. Però sei giovanissima, questo lo possiamo... non diciamo quanti anni hai, però sei molto giovane. Io ho 14. Un anno meno di me. No, sì, poi ho fatto altri provini, anche quelli in televisione, che sono andati bene in alcuni sensi, in altri no, perché poi ci sono tante cose che non sono mai chiare. Infatti questa è una cosa che di te non si dice, nel senso che tu hai preso parte anche ad un film per la regia di Sergio Rubini. Sergio Rubini, sì. No, per la regia di Alessandro Piva, con Rubini e Locascio, che è stata un'esperienza meravigliosa. Io mi ricordo che tornai a scuola, alle medie avevo veramente 14 anni all'epoca, e mi ricordo che in quel periodo tutte le mie mie amiche impazzivano per i Backstreet Boys. Io tornai a scuola, avevo i poster di Luigi Locascio e Sergio Rubini, cioè ero già... No, io invece... anche io ero fan dei Backstreet Boys. Va bene. Torniamo a te e torniamo alla tua musica. Qual è la tua musica? La mia musica è... detto così non c'è... no, non c'è, perché studio jazz, però canto soul. Mi piace il blues e scrivo musica italiana pensando a Pieno Daniele De Crescenzo, Alicia Keys, quindi la mia musica è un po'... Contaminata. Sì, contaminata, assolutamente, sì, sì. Io so anche che scrivi però i tuoi pezzi e questa cosa a me incuriosisce tantissimo, nel senso che io mi chiedo sempre ma come fanno a scrivere le canzoni, da dove arrivano le parole? Ma sicuramente dalla voglia di prendersi un po' in giro, secondo me, perché parlo di... magari ho parlato in un pezzo di una persona a me cara, quindi ieri ho suonato, ho fatto un piccolo concertino dove ho cantato una canzone pensando a mio nonno, scritta per mio nonno, che mi ha proprio aperto la strada al jazz, è stata la prima persona. Però poi ho cantato pure un pezzo dove parlo della mia pigrizia, della mia indolenza, quindi secondo me parte proprio dal volersi prendersi in giro e prendersi, come si dice, non mi viene, parlare di sé senza problemi. Di aprirsi un po'. Ecco, non prendersi in canale zazzo. Sì, sì, non prendersi sul serio, secondo me da questo. Raccontaci dei tuoi prossimi progetti. Ma i miei prossimi progetti sicuramente un cd mio, vabbè, la prima cosa che... Ci stai lavorando? Sì, 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 sì. I pezzi ci sono, ora bisogna trovare le persone giuste, i canali giusti, è sempre così. Non basta avere i pezzi buoni, i pezzi che ti rappresentino, ma avere anche i canali giusti per fare un disco. Siamo all'inizio della stagione di Informa, mi faresti l'onore di cantare qualcosa per noi? Parlami d'amore, Mariu, tutta la mia vita sei tu, qui sul tuo cuor non soffro più. Parlami d'amore, parlami d'amore, parlami d'amore, Mariu. Quanto è brava, va bene, complimenti in bocca al lupo. Grazie, grazie. E anche per quest'oggi il nostro viaggio termina qui, io spero siate stati in buona compagnia. Ringrazio Massimo Quercia dall'altra parte della camera. Alla prossima. Ringrazio Massimo Quercia dall'altra parte della camera.